Da oggi anche la provincia di Caltanissetta ha un registro tumori accreditato presso l'Associazione Italiana Registri Tumori che ne ha dato comunicazione all'annuale riunione nazionale a Taranto. È risultato del programma che l'assessorato alla salute della regione siciliana ha portato avanti in questi anni per lo sviluppo della rete dei registri tumori su tutta la popolazione siciliana. La rete è coordinata dall'osservatorio epidemiologico regionale come previsto dalla legge di riordino del servizio sanitario nel 2009 ed attualmente copre ormai il 90% della popolazione regionale. L'accreditamento dei registri tumori in provincia di Caltanissetta spiegano dall'assessorato riveste particolare importanza per l'esigenza di tenere alto il livello di sorveglianza epidemiologica per la presenza dell'area a risco ambientale di gel e per la recente e nota problematica del mosso di Niscemi. Il rafforzamento degli strumenti di sorveglianza epidemiologica si inserisce nel programma straordinario di interventi avviato di regente all'assessorato alla salute anche in provincia di Caltanissetta. Il registro è stato avviato attraverso la collaborazione con quello di Ragusa. Di questi temi si discuterà anche nel corso dell'annuale convegno nazionale di epidemiologia promosso dal Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla salute in programma nel prossimo 14 maggio a Palermo.